Un programma ricco di appuntamenti e da quest'anno ritorna anche il Jazz Village. Sì, diciamo che da quest'anno riprendiamo quello che è l'assetto normale del festival, diciamo il pre-covid, quindi il Jazz Village naturalmente che è il segno identitario, ritornerà e sarà sede di concerti, ma anche della parte didattica, sarà diviso in due parti, una parte dedicata ai concerti e l'altra parte al beverage, quindi sarà il luogo dove noi porteremo il Green Jazz Villa con tutte queste azioni green, con l'attivazione di questi criteri ambientali minimi, quindi un luogo molto importante per noi, per la nostra storia, per il nostro segno identitario. Questa è una delle attività, ma poi voglio ricordare anche questa Live in the City che quest'anno raddoppia l'attività, quindi avremo 83 musicisti che si inonderanno la città, in questi 20 luoghi, in questi 20 locali della città, nelle due fine settimana che sono il 24 e il 31 luglio. Ma poi avremo anche le attività collaterali, ricordo gli appuntamenti, narrazioni in jazz, oppure yoga in jazz, le mostre a Bastione di Sangallo e la famosa ormai sbiciclettata che partirà dal Pincio, che fanno Jazz Bike the Sea, proprio a sancire quello che è per noi la mobilità sostenibile. Insomma, un festival che è ricco di appuntamenti e naturalmente tutta la parte centrale del nostro festival, che è la parte artistica, che si compone ancora quest'anno di queste cinque sezioni, e la più importante naturalmente è questa del main stage, che vedrà protagonisti, musicisti di altissimo livello internazionale, per citarne alcuni, Gonzalo Rubalcaba, Tigrana Masjana, Nispetter Molvaer, Ilian Canisares, insieme ai nostri Giovanni Guidi, Gianluca Petrella, Antonio Farò, Insomma, un cast artistico di altissimo valore e soprattutto di grande rilevanza internazionale, quello che ci consente di avere una visibilità anche oltre quelli che sono i confini italici. L'altra parte della sezione artistica comprende Young Stage, che noi dedichiamo ormai da anni ai musicisti più giovani, che hanno nuovi progetti. L'altra sezione è Cosmic Journey, invece, che noi dedichiamo a tutta quella sperimentazione, all'elettronica, ai DJ set, e tra l'altro Cosmic Journey chiuderà tutte le giornate del festival, sempre nella sede del Jazz Village, e importantissimo, strategico, fondamentale per noi sarà la sezione dell'Exodule Stage, che riguarda appunto questo, che noi dedichiamo al programma della migrazione, e per cui abbiamo invitato dei musicisti in solo a rappresentare quello che è il dramma della migrazione. Cito ancora una importante iniziativa che è quella didattica, che quest'anno abbiamo chiamato Jazz for Kids, perché la riteniamo estremamente importante, oltre al solito campus musicale che vedrà la partecipazione tra 45 e 50 ragazzi, compresi tra i 6 e i 16 anni, avremo una serie di iniziative rivolte anche ai più piccoli, ai bambini, quindi avremo concerti per bebè, avremo le favole in jazz, dei concertini, dei laboratori, insomma vorremmo dare un segnale importante per far sì che anche le nuove generazioni imparino a vivere la musica e ad essere magari a formarsi per avere una coscienza un pochino più preparata per il futuro, quindi per noi è molto importante. Ecco, questo un po' in sintesi, quello che quest'anno è il festival, che comunque in tutte le sue parti potrà essere visibile sul nostro sito, www.fanojustbythese.com, dove ci saranno anche notizie per quanto riguarda la biglietteria, che quest'anno abbiamo fidato a Live Ticket, quindi invito tutti quanti ad essere presenti, perché insomma sarà un'edizione importante, spumeggiante, che farà vivere tutta la città.